Musica Buonasera a tutti, siete tantissime, ci fa molto piacere avere un pubblico così numeroso. Io mi presento, sono Elisa, sono una studentessa del liceo Carlo Livi e ho origine geniziale. Io sono Bilal, sono studente del liceo pergo scientifico e sono di origine pakistana. Io sono Maria, sono una studentessa del Carlo Livi linguistico e sono origine romana. Ok, siamo qui per presentarvi questo progetto. L'idea del progetto è di lavorare insieme a degli studenti delle scuole superiori, di varie scuole, di varia origine, per scoprire come loro vivono Prato, che cosa capiscono di Prato, quali sono le loro emozioni sulla città. Questo progetto è stato idealizzato per creare una mappa digitale di Prato, per rendere questa città diversa da come la vediamo noi, per mostrare un lato che forse tutti noi abbiamo ignorato e sottovalutato. L'importante è dare una prospettiva più ampia, più complessa, andando a sentire cosa ne pensano le persone più giovani, per capire un po' come Prato si sta trasformando e come sarà la città del futuro, come questi ragazzi sapranno trasformarla. Sentirete sempre parlare di Prato attraverso metafore tessili, metafore di tessuto, sentirete parlare del concetto di città-fabbrica e sentirete anche parlare di multiculturalità e migrazione. Ci sono 124 nazionalità a Prato. Gli studenti che hanno un genitore con cittadinanza non italiana o due genitori con cittadinanza non italiana sono il 26%, tre volte la media nazionale. È come vi dicevo una ricchezza enorme. Il nostro lavoro qui veramente è di aiutarvi a trovare le forme e i modi di comunicare attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali come il video, la fotografia, le mappature digitali, le visualizzazioni e anche l'organizzazione di una mostra di un giorno qui a Prato. Stiamo cercando di insegnargli ad utilizzare nuovi strumenti per raccontare la città e anche in qualche modo per appropriarsene e per cambiarla in meglio. Siamo qui tutti insieme, sia come gruppo di lavoro, sia insieme ai ragazzi, anche con questa costante capacità e desiderio di rimettere in discussione quello che avevamo pensato prima ascoltando il feedback che ci viene ogni giorno dalle persone con cui stiamo lavorando che sono ben 48 giovani da 8 scuole diverse di Prato. Il nostro ruolo, io dico, non è tanto quello di guidarvi ma al contrario di aiutarvi ad imparare anche delle cose nuove e quello che possiamo fare noi è soprattutto lavorare insieme sulla parte di design. Ci hanno dato la possibilità di entrare in questo gruppo e formare una squadra dove ci è stata data la possibilità di lavorare su volantini e depian da poi distribuire in tutta la città di Prato. Servono per far sì che un po' più persone vengano a conoscenza di questa mostra e ci sarà sabato. Inizieremo proprio a lavorare, come avete già un po' iniziato a fare, su delle mappe di carta, quindi su delle mappe in cui ci chiederemo delle domande. Quindi faremo tre piccoli gruppi di lavoro e di discussione. Il primo sarà su come vi muovete nella città, il secondo sarà su i sensi, che cosa sentite, vedete, eccetera, eccetera. E il terzo sarà su come immaginate la città, come l'immaginate nel futuro. Non vorrei che vi metteste quelli che voi sapete essere i simboli architettonici di Prato, ma quelli che sono importanti per voi. Pochissime cose nella scuola, per esempio, ti preparano ad esprimerti, quindi a auto-rappresentarti, rappresentare te stesso, rappresentare i tuoi desideri, quello che vuoi dalla vita. Quando uno veramente si auto-esprime, auto-rappresenta, quindi quando riesce a dire chi è, cosa vuole dal mondo, ecco, c'è un effetto meraviglioso che il mondo diventa un po' più tuo. E questa, diciamo, alla fine è proprio la cosa più importante che cerchiamo di fare in questo processo. Finora abbiamo visto cose inerenti al gusto, alla vista e all'olfatto. E' qua in Italia, gli piace tantissimo, abita qui con la sua famiglia e gli piace perché pensa che gli italiani hanno un cuore molto buono. I love Italia! Un bar nuovo di Prato dove vendono comunque delle bibite particolari. L'odore è più che l'altro perché c'è... Ci riporta a casa, visto che Prato è molto famosa con il canto... C'è, il canto di Ciccino. Questo è il posto, da quando sono piccola, che faccio i saggi di Lanza. Ciao! Andiamo qui! Mi prendi? Ho scelto questo posto perché mi mette tristezza. Brutte esperienze. Tutte le poche volte che ci sono venuta ho ricevuto attenzioni, sguardi che non volevo ricevere. Ci siamo divisi le varie emozioni e a me è capitata sorpresa e ho deciso questo posto perché l'immensità delle statue e i vari colori mi hanno lasciata veramente di stucco. L'esito della mostra di oggi dove? Un gruppo di università, di scuole, di ragazzi più disparati, percorsi personali, più diversi, a un certo punto si inventano di raccontare la città attraverso una sorta di esplorazione. Questa vitalità e si fa fatica a riscontrare da tante altre parti. I am youth in the city. Io sono 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 youth in the city. I am youth in the city. I am youth in the city. I am new in the city I am new in the city